L'emozione di questi giorni è ancora molto viva, sono molto onorata di ereditare tutto il lavoro altissimo che ha fatto Giuliana Ceccarelli in questi anni e sono ben consapevole, come diceva il sindaco, che il tema della scuola è un tema caldissimo. Si giocherà tutto nelle prossime settimane, il rientro a scuola e la nuova fase della pandemia, che speriamo sia in diminuzione, ma i dati non ci rassicurano al momento, sarà uno dei miei primi interventi e azioni sicuramente da assessora. Un altro tema però che ho molto a cuore è quello delle pari opportunità e sicuramente del contrasto all'odio, quindi mi vedrete molto impegnata anche su queste tematiche, che da sempre porto avanti prima da consigliera e poi adesso da assessora, sempre con più convincimento. È un assessorato importante, sono consapevole della responsabilità, del lavoro che dovrò fare, ringrazio il sindaco per la fiducia e ringrazio giustamente l'assessore Sara Mengucci per il lavoro fatto in questi anni, che è riconosciuto da tutti. Ho sempre creduto nell'importanza di lavorare di squadra e in gruppo, quindi so che potrò contare su degli uffici, con delle persone competenti, in consiglio comunale che soprattutto la maggioranza ha la tradizione di essere sensibili a queste tematiche sociali, tant'è che abbiamo investito negli ultimi anni molte risorse e tutto il mondo del terzo settore che lavora e fa volontariato in questo settore che appesano a una grande ricchezza ed è molto forte, quindi lavorerò di squadra, siamo pronti a continuare un buon lavoro che era già stato iniziato. Grazie. Grazie.